Ciao a tutti amici di Batteo e Ripple, ancora una volta in diretta dalla presentazione degli iPhone 5S e 5C in questo caso stiamo guardando un modello di 5C quello che molti hanno definito l'iPhone di plastica e che ancora una volta vi ricordiamo è fatto di policarbonato e adesso per la prima volta da quando è stato pubblicato, da quando è stato reso disponibile in commercio possiamo tenerlo in mano e testarlo possiamo assicurarvi che non è assolutamente fragile o impacciato come molti altri blog lo hanno definito ha forma e componenti del tutto simili a quelle dell'iPhone 5 attualmente esistente e che tutti conoscete con ovviamente alcune implementazioni che vengono dal 5S in questo caso è di colore verde pesa sensibilmente in più rispetto al 5C ma a parte questo non ha difetti di sorta soprattutto in quanto a resistenza qui velocemente ne vedete uno azzurro o blu come vedete i colori sono specchiati e hanno un'ottima finitura anche la mela è sedigrafata e protetta da uno strato coated trasparente che non era presente fino ad ora nelle altre colorazioni come sapete esistono di svariati colori e di diverse forme accanto ne abbiamo uno giallo come potete vedere e qui potete vedere tutte le varie custodie di cui vi abbiamo parlato e che sono fatti appositamente per mettere in luce il colore dell'iPhone sottostante creando quindi un simpatico effetto visivo grazie grazie grazie